buongiorno amici e amiche ben ritrovati sul canale del commisar tecnologi io sono marco ed oggi andiamo a vedere uno smart watch dal nome omg watch che si ispira all'omegas watch un watch normale ok questo invece è uno smart watch molto molto bello io ringrazio emanuele per avermelo prestato perché non me l'hanno inviato per apprezzato monale lo ringrazio ovviamente e devo dire che dopo la prima impressione impressione di plastica chip mi sono trovato veramente bene ed è molto bello di posso dare solamente un appunto che ha il display piccolo ma andiamolo a scoprire insieme subito dopo la sigla eccoci qua facciamo il classico unboxing questa volta come vedete mission of neptune perché questo è ispirato ai pianeti è una collezione ok è fatto ai vari colori in base ai pianeti abbiamo uno schermo amoled come vedete dopo vi darò tutte le caratteristiche 11 colori qua dietro possiamo vedere i vari pianeti vi manderò poi del vi faccio vedere proprio delle diapositive che scorreranno con tutti quanti colori eccoli qua sono 11 e da quest'altra parte dice che ha 172 sport in realtà 22 più gli altri sono extra li trovate sotto dopo ve lo faccio vedere e 24 ore monitoraggio della frequenza cardiaca lo apriamo un attimo come vedete qua c'è scritto che questo qua praticamente è per tenere il pianeta pulito e quindi è fatto la confezione è fatta 100 per cento col materiale biodegradabile tra le altre cose guardate che bello qua dietro può piacere o no ma da questa parte qua viene riprodotta praticamente la superficie del pianeta vediamo se riesco a farvelo vedere meglio come vedete c'è una riproduzione della superficie del pianeta il pacchetto è molto diciamo essenzial bello e che rispetto al pianeta un plauso ai cinesi questa volta per aver fatto questa cosa qua lo apriamo il pacchetto e andiamo a vedere che al suo interno abbiamo lo smartwatch eccolo qua tutto quanto in plastica ripeto può sembrare chip ma poi quando lo mettete al polso a lungo andare apprezzerete la leggerezza ok il manuale delle istruzioni eccolo qua in cinese e in inglese rigorosamente dove troverete tutto l'essenziale per metterlo in funzione ma poi ve lo spiegherò anche io vi farò vedere tutte le sue funzionalità e qua abbiamo il solito cavetto di ricarica magnetico adesso noi andiamo a vedere cosa fa lui quando lo mettiamo in carica lo mettiamo così gli diamo la scarica o la carica e come vedete lui praticamente quando sarà in carica avrete questa questa fotografia e quando arriverà al cento per cento vediamo se riesco a rimandarlo quando arriverà al cento per cento vi dirà che sarà carica finita e basta sarà in questo modo qua molto molto interessante facciamo solo una prova di tenuta vediamo che tiene però comunque va bene perché la ricarica si fa bene adesso noi andiamo a vedere tutte le sue caratteristiche lo smartwatch è 42 x 38 x 12 mm di spessore la diagonale del display è da 1,28 forse un po piccoletto ma il display si vede benissimo è un amoled 416 x 416 molto molto bello e si vede bene sotto la luce del sole ok la cpu al suo interno una realtec 8763 una di quelle nuove con 128 mega di ram e una batteria da 200 miliampera questo abbinamento porta ad un uso dello smartwatch provato fra i tre e cinque giorni ok loro dichiarano poi che potete arrivare anche a 15 giorni ma non di utilizzo però è solo smartwatch solo watch praticamente il tutto è un 5.0 ed è un ip68 lo troverete in vari colori da questa parte abbiamo tre bottoni di cui questo è il magic crown dopo ve lo faccio vedere 1 2 e 3 abbiamo lo speaker qua dietro abbiamo i sensori biomedici che sono posizionati come c'è la posizione nella nello orologio dell'omega che ha praticamente il pianeta disegnato qua per mettere la batteria e qua la ricarica nell'omega c'è presente il disegno del pianeta si smonta si mentre la batteria in questo caso ci sono i sensori e qua abbiamo la ricarica che abbiamo visto prima magnetica da quest'altro lato abbiamo un secondo microfono e lo speaker e nel frontale eccoci qua poi se premiamo qua come vedete ci porta ai messaggi oppure se lo teniamo premuto ci porta a tutte le app questo ci porta sempre a tutte le app o la voce face e vi faccio vedere che è funzionante da quest'altra parte invece se lo teniamo premuto ma allo spengimento eccolo qua naturalmente i cinturini sono da 20 li potete cambiare se voi trovate dei cinturini su amazon che hanno anche praticamente una piccola pinzetta per levarla fate leva qua e questi si smontano e mettete quelli compatibili a sgancio rapido se non ci riuscite andate la prima volta da un orologiaio ve li fate smontare si smontano e mettete quelli rapidi a sgancio rapido che è più semplice che cambiarli il cinturino come vedete è fatto bene molto bene io l'ho utilizzato eccolo qua è ancora in buono stato mi pare di avervi detto tutto quanto o quasi tutto adesso andiamo a vedere tutte le sue funzioni che ha l'alto verso il basso abbiamo il centro di controllo dove qui abbiamo il botuto per le chiamate di attivare questo qua serve per disattivare il suono o no e mettere sulla vibrazione lo spengimento il doppio menu il stile in questo caso il stile galaxy watch in questo caso a lista poi qui abbiamo il non disturbare le impostazioni che le vediamo dopo la luminosità che è solamente manuale come vedete a una due tre quattro e cinque la mettiamo a metà e vi dico che il display è fantastico perché riesce a raggiungere una luminosità di 650 lux molto molto bello e si vede bene sotto la luce del sole poi qua abbiamo la funzione delle svegli assolutamente del polso per attivarla disattivarla vi faccio vedere la lampada o la torcia questo è per cercare lo smartwatch il risparmio energetico la quale potete attivare e quale informazioni sullo smartwatch ritornando questa altra parte andiamo nelle impostazioni troviamo la lingua avete molte lingue lo schermo illuminato che significa questo voi potete attivare o disattivare l'illuminazione dello schermo quando arriva un messaggio molto bella questa cosa perché abbiamo la prova d'ordine quindi il blocco dello smartwatch il controllo del tono questo qua altra cosa molto interessante potete decidere di ascoltare l'audio nello smartwatch o nello smartphone quando controllate la musica dallo smartwatch questa è una cosa che non hanno tutti qui abbiamo il fuso orario con varie come vedete con varie città la posizione e lui la prende dallo smartphone la modalità luminosità questa è molto comoda perché praticamente voi da qua potete impostare l'orario in cui lui abbassa automaticamente luminosità e così la sera non mi farà quel classico effetto faro questo altro interessante se voi lo attivate praticamente avrete lo always on display la vedete o numerico o con il classico lancetta ok questo pure molto bello per opzioni ne avete tante i quadranti vi dico subito i quadranti dopo nell'app vi faccio vedere come si fa i quadranti voi ne avete praticamente allora questo lo fate dall'app vi faccio vedere dopo come e questi uno è fisso e questo qua e questi altri due li potete scegliere voi dall'app adesso vi metto questo che è molto carino che andiamo nelle impostazioni quindi ha molte funzionalità che vedremo anche nell'app i quadranti poi la chiamate sos naturalmente sapete se l'attivate impostato un numero da chiamare di emergenza dovrà essere collegato allo smartphone per chiamarlo sollevo e porso per accendere il tempo di schermo luminoso questo pure interessante parte da 5 va di 5 in 5 ma potete anche mettere display sempre attivo e rimarrà sempre attivo qui la modalità batteria bassa se voi la attivate lui praticamente vi farà vedere solamente l'ora questa ve la faccio vedere attivandola avrete solamente l'orario e la durata della batteria potrà arrivare anche a 15 giorni quello che vi dicevo prima per disattivarla tenete premuto e si disattiva vi faccio perdere un po di tempo ma mi premere farvi vedere tutte quante le funzioni perché poi non si possono aggiungere il quale ricordo per scaricare l'app l'app è la qui fit ok può usare anche altre app ma quella ufficiale è la qui fit questo è per ricominciare ripristina e le informazioni di sistema che abbiamo visto prima leviamo questo abbiamo questo da sinistra verso destra abbiamo il door con tutte le app dove abbiamo le telefonate normalmente va collegato queste sono le app in background quelle che avete attivato di recente le potete levare tutte poi qui ci sono gli indirizzi e contatti vi faccio vedere dopo come si mettono il record delle chiamate il formato dell'ora potete scegliere praticamente 12 qua sotto oppure 24 i messaggi ok lui ne memorizza praticamente 20 non ci sono né emoticons né caratteri speciali quando ne arriva uno nuovo cancella il più vecchio il pallino questo qua rosso serve per farvi ricordare che praticamente il messaggio non è stato letto è una volta letto volevo di cancellare o singolarmente facendo uno swipe da destra verso sinistra oppure li potete cancellare tutti quanti insieme da qua sotto poi abbiamo la salute qui fa il ripiro della salute come vedete stile sempre galaxy watch molto molto bello le impostazioni abbiamo viste il calendario il calendario fa vedere i giorni qui ci sono i registri degli sport ne faccio vedere ho fatto una prova vi da tutti quanti i dati biometrici in più vita il grafichetto qua sotto pure questo molto carino il meteo i passi vediamo il meteo adesso è scollegato comunque lui vi da praticamente il giorno corrente più altri giorni qui i passi della giornata l'assistente vocale lo potevo utilizzare per effettuare chiamare effettuate effettuare chiamate e altri che altre funzioni tutte quelle che fa lo smartphone la rilevazione della frequenza cardiaca vi dico che è abbastanza precisa il sonno pure abbastanza preciso la pressione così così ricordatevi che non sono prodotti medici quindi le misurazioni prendetele un po per riferimento ma non per rilevamenti medici la sveglia molto interessante la potete creare anche da qua e una volta creata vi squillerà anche potete decidere se squilla o non lo decide direttamente dalla smartwatch pure questo è una cosa molto molto interessante fantastica qui ci sono gli allenamenti ne abbiamo 22 di base anche il nuoto però qua su altri ce ne sono tanti altri che praticamente vi porteranno all'incirca 170 allenamenti la musica già l'abbiamo detto a tutte quante le funzioni il cronometro il rilevamento e l'ossificazione del sangue sempre vedete così per com'è quella più precisa ripete quella dei battiti lo scatto da remoto la calcolatrice sempre interessante il ciclo mesturale la torcia il non disturbare lo potete attivare da qua e potete decidere anche l'orario quindi dall'orologio riuscito a fare quasi tutto dallo smartphone dallo smartwatch la posizione poi qua queste qua sono praticamente web chat e cucù trova telefono facebook web chat facebook e tutte queste cose qua sono praticamente non sono le app ma la troverete tutti quanti i messaggi di quelle app ok mentre qua questo è il QR code per scaricare l'app eccolo qua trova il telefono per trovare il telefono facebook come vi ho detto prima le informazioni di sistema whatsapp twitter instagram sono quel discorso che abbiamo fatto prima poi la respirazione e il gioco un piccolo giochettino che avete voi qua e nient'altro vi faccio vedere che se voi andate a cambiare questo qua lui avrà praticamente come vedete il menù tipo galaxy watch 4 naturalmente dal basso scusatemi dal basso verso l'alto abbiamo i messaggi e da destra verso sinistra abbiamo tutti i widget questo è l'epilogo sanitario lo chiamiamo biometrico di passi e tutte quante le misurazioni poi abbiamo il sonno che normalmente poi vi terrà dei dati il cuore il meteo e poi da qua potete aggiungere aggiungere le chiamate la musica vi faccio vedere le chiamate la musica l'ossicizzazione del sangue gli sport e calendario mesturale quindi è molto molto completo e molto molto reattivo va molto bene a me mi è piaciuto ok adesso io vi faccio vedere l'app vedete insieme a me perché ha altre funzioni nell'app che sono interessanti ho detto che l'app è l'acquifit ma ne potete utilizzare anche altre venite nel canale telegram che vi diciamo quali sono le altre ma sostanzialmente funzionano tutti nella stessa maniera e se dovete fare un aggiornamento firme usate l'acquifit e basta qua nella pagina insieme abbiamo l'epilogo dei dati di oggi per giorno settimana e mese così come la frequenza cardiaca qua potete attivarla 24 su 24 e lui la rileverà ogni cinque minuti ok e non potete praticamente scettarla in altra maniera questo è il rilevamento del sonno sempre giorno settimana e mese le calorie bruciate degli sport quindi qui ci sono gli sport sempre giorno settimana e mese normalmente ve lo far vedere solo una cosa qua ed epilogo come lo fa eccolo qua come vedete vi dice anche lo stato di allenamento molto molto carino l'ossicciazione del sangue stesso discorso 24 ore su 24 eccola qua la farà però più diradata non circa in cinque minuti e qua la pressione sanguigna stesso discorso potete farla 24 ore su 24 poi modifica lo schermo potete aggiungere il ciclo mesturale se andiamo da questa parte qui qui abbiamo l'orologio vi da anche vi da anche praticamente la batteria a quanto sta qua è l'avviso di chiamata potete attivare l'avviso di chiamata date consenti 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 e quando vi arriverà una chiamata lui avviserà e vi farà vedere praticamente chi vi sta chiamando non è importante che voi lo avete il numero nella rubrica ma è importante che lo avete nella rubrica dello smartwatch ma è importante che lo avete nella rubrica dello smartphone in questo caso lui farà vedere anche il nome del chiamante le notifiche ci sono le principali tutti quanti tipo messager facebook cacao dark line skype twitter telegram webber linkedin cucù whatsapp instagram snap chat questo non lo dico nemmeno questo e gmail e poi se volete fare le altre dovete fare altre applicazioni ok e veriveranno di tutte le altre ma quelle principali ci sono e poi anche gli sms qua i contatti rapidi ne potete mettere fino a 500 per richiamarli ma li potete richiamare anche con l'assistente vocale per fare una chiamata e ripeto non è obbligatorio metterli per visualizzare il nome di chi chiama ok poi qui abbiamo la modalità non disturbare che abbiamo visto anche loro oggi lo trovo al dispositivo e lui suonerà anche oltre a vibrare questo è molto interessante poi abbiamo la fotocamera quindi lo scatto da ripoto il meteo le unità di misura potete impostare il formato dell'ora e qua su altro abbiamo il tempo del dispositivo acceso potete impostare anche da qua ma dall'app non vi darà sempre acceso ok poi riavvia il dispositivo e ripristino di fabbrica se andiamo qua nelle watch face abbiamo tutti i quadranti quindi qui abbiamo il più caldo sarebbero quelli più scaricati ce ne sono di belli e ce ne sono tantissimi eccoli qua questa è una parte normalmente poi potete andare a vedere gli ultimi che sono arrivati adesso andiamo avanti poi ci sono per carità digitale multifunzione normalmente qui su altro aprite e vi dà gli altri commercio classico geometria sita e minimalista meccanica fantasia cartone animato quadrante dinamico quindi è quello che si muove che fa vedere tipo gif l'uomo spaziale che va di moda oggi non so perché ma tutti quanti con questo uomo spaziale personalità creativa pixel la bellezza linee vacanze e altro qua su altro ci sono vi faccio vedere un po di quelli più interessanti come vedete poi se andiamo qua su sfondo potete creare praticamente o un quadrante analogico o un quadrante digitale spostate come vi pare come vedete qua e mettete tutto quello che volete questo invece è fisso se andiamo in mio vi faccio vedere questa è quella fissa e queste due sono quelle che voi potete cambiare e la quarta è quella che create qua ok poi a quest'altra parte c'è guida profilo udente obiettivi domande frequenti quindi qua potreste avere un aiuto se avete problemi le informazioni e feedback qui potete mandare suggerimenti a chi produce l'app e l'app è tutta questa qua allora questo prodotto io lo trovo molto interessante c'è chi l'ha definito un prodotto da ovo di pasqua assolutamente no perché quando volevo andrete ad utilizzare io l'ho utilizzato per un mese vi troverete veramente bene e poi in base ai colori che vi ho fatto vedere cambia molto praticamente l'impatto ok i colori quelli un po più sovri danno un po più senso di smartwatch classico buona batteria buon display forse lamento un po troppo un po troppo piccolo display si può trovare il smartwatch intorno alle 34 euro affrettatevi se vi piace perché spariscono nel senso che ne stanno vendendo tanti perché sembra che l'ultima moda che va quello originale e molti compano il clone o se uno vuole uno smartwatch in quello stile compra questo qua ok quindi affrettatevi io devo dire ripeto che mi sono trovato bene veramente bene qua sotto in descrizione come vedete adesso è entrato qua la odi lo vuoi sono qua sotto in descrizione metto il link dei canali amici ma di smartwatch di levotec del mio canale del commistar tecnologi dovete venire e avere tutto il supporto possibile e immaginabile a gratis vi chiedo però almeno di supportarmi con un like e di scrivere qualche commento qua sotto così almeno riuscirò a portarvi altri contenuti come questi se vi è piaciuto va bene se non vi è piaciuto vi va bene uguale vi do un abbraccio e ci vediamo al prossimo video